Mi fa male la panza. È solo l'effetto dell'astinenza, il dolore è normale. No, no, non è questo. Dolori addominali e distensione. Ci sbagliavamo sulla psicosi da stimolanti. Possono essere problemi coesistenti, potrebbe avere un'occlusione. Sai cosa dice House delle coincidenze? Visitandolo non ho sentito masse né rumori intestinali patologici. Dov'è House? Non è ancora arrivato e nemmeno Wilson, ho già provato a chiamarli tre volte. Bene, ce li siamo. Il diabete può aver causato danni ai nervi della mano, all'intestino e allo... Però la glicemia è nella norma e poi ci avrebbe detto che era diabetico. Magari una colite ulcerosa ha provocato una trombosi. Abbiamo già escluso gli emboli e nelle feci non c'è sangue. Chiamalo ancora. E questo è di Wilson. Dovunque siano, non vogliono essere disturbati. Ok. Grazie. 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 Grazie.